Allora per passare dovete dimostrare quanto siete duri! Primo compito! Eliminate i dirigibili da ricognizione con un'arma incendiaria! Per varie ragioni! Abbiamo distrutto l'unico modo che aveva il villaggio per individuare possibili minacce! Che motivo c'era? Bene! Compito da duri due! Andate alla taverna! Aspetta! Questa città non ha una taverna! Ok! Senti alla taverna! La proprietaria ha un problema! Parlale! Ehi, avventurieri! È ora di chiudere, ma questi idioti non lo capiscono! Potete buttarli fuori? Non abbiate paura di andarci giù pesanti! Grazie, tesoro! Va bene, mi dispiace! Non dirò più niente di antipatico, lo provento! Scronza! È inaccettabile! Quindi è questo il tuo spettacettino che voleva farmi messare? Non sono così forte da farlo esplodere! Sta scappando! Suzzami le mutande! Eccola là! Ah! Fai schifo! Suzzami le mutande! Sta scappando! Ah, Tina! Non ha senso! Torg sta rovinando la tua campagna! Mi sto divertendo! Ben fatto! Ora siete abbastanza duri da sopravvivere alla foresta! Questa posizione da... Nuova missione! Voglio che facciate esplodere... L'oceano! Ce lo levi di torno, per favore? Va bene, hai ragione! Mister Torg ti condanno... All'agonia! L'agonia? Spettacolo!